Erano a Fortuna, a Fortuna e a Fortuna, erano un fatto posto di questo, prima di arrivare a Fortuna, e lì erano ruolari nostri, quindi io adesso, fatemi che si ricostruendo, io ho dovuto leggere tutti i sei volumi lì della rivista dell'Eni, e non è che ci sono delle piccole cose che le siamo facendo da me, e la traduzione che le siamo facendo da Questo è l'orto di Maurizio, Maurizio, ci dici in una parola, in un aggettivo, qual è la tua esperienza dell'orto? La mia esperienza dell'orto è nata tutta per caso, perché avevo perso il lavoro, per cui stare a casa mi sentivo frustrato, e allora abbiamo deciso di prendere questo appezzamento di orto per poter, diciamo, stare non sbattuto su una sedia a rimorginare, ma a rendersi, diciamo, un pochettino utile o più che altro attivo, ecco, non perdere il ritmo, e l'abbiamo preso per gioco. Poi, piano piano, da premettere che io di orti non ne capivo niente, però grazie all'aiuto dei vicini, un consiglio a questo, un consiglio a quell'altro, sono riuscito ad avere qualche piccolo risultato e qualche anche piccola soddisfazione, se si può dire. Ok, grazie. Grazie. Grazie.